Saluti a tutti e benvenuti in questo fresco e accattivante video. Oggi è un giorno speciale perché ci addentreremo nel mondo meteorologico, cercando di comprendere se l'estate è realmente giunta al suo epilogo. A prima vista, sembra che due chiari segnali ci abbiano già svelato qualcosa, ma aspettate! Ci sono altri indizi che stanno per emergere, poiché qualcosa sta iniziando a muoversi nuovamente. Prima di iniziare questa entusiasmante avventura, tuttavia, permettetemi di ricordarvi quanto sia importante per noi il vostro supporto. Vi invito quindi a iscrivervi al nostro canale, a lasciare un mi piace e a attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri esclusivi aggiornamenti meteorologici. È un piccolo gesto per voi, ma significa il mondo per noi! Ora, proseguendo con l'analisi, esploreremo le temperature recenti. In tutta l'Italia, le temperature sembrano non superare i 30-31 gradi, con lievi eccezioni al centro-sud. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno portato un'aria fresca e frizzante e abbiamo addirittura registrato nevicate intense sulle nostre Alpi. Un fatto straordinario si è verificato sulla Marmolada, dove le abbondanti nevicate ad agosto sono un evento quasi record. Ma vediamo come evolverà la situazione. Fino al 9-10 agosto ci aspetta un clima tranquillo e gradevole. Tuttavia, verso il 10 agosto, qualcosa inizia a cambiare. Un'ondata di calore dall'Africa investirà l'Europa occidentale, con temperature estremamente elevate tra Spagna e Francia. Noi in Italia sembriamo per ora abbastanza graziati, con temperature elevate ma non esagerate come nelle settimane precedenti. Avvicinandoci al 12 agosto, sembra che l'aria calda persista sul nostro paese, con un leggero aumento delle temperature fino a ferragosto. La buona notizia è che l'alta pressione ci proteggerà da eventuali infiltrazioni di aria umida. Le temperature più elevate saranno registrate principalmente tra la Sicilia e la Sardegna, con valori massimi compresi tra 29 e 35 gradi, almeno fino al 15 di agosto. In sintesi, sembra che l'estate non sia ancora completamente finita, con ondate di calore provenienti principalmente dal Nord Africa. Le regioni della Sicilia e della Sardegna saranno le più colpite, ma il resto dell'Italia avrà comunque temperature elevate. Vi ringrazio di cuore per averci seguito oggi e, prima di concludere, vi invito ancora una volta a iscrivervi, a lasciare un mi piace e ad attivare le notifiche per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti. Grazie ancora e a presto!